Oggi siamo qui per giocare tutta la carriera di Francesco Camarda Eccolo, l'ho creato, è un 54, ha un potenziale straordinario ed è pronto a vincere tutto con la maglia del Milan Prima di iniziare però io vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace per avere domani alle 14.30 la seconda parte di questo video Camarda ha davanti a sé una carriera incredibile e quindi per farlo crescere bene abbiamo bisogno di tanti anni Per questo motivo questo video verrà diviso in due Lasciate un bel mi piace adesso e domani avrete la seconda parte quella finale, quella decisiva Tra l'altro vi metto qui nello schermo gli attributi che ho utilizzato per creare Camarda Così se qualcuno vuole crearlo per, non lo so, vederlo crescere o magari puntare su di lui in una carriera giocata lo potete fare grazie a queste statistiche che vedete a schermo Purtroppo ha 17 anni perché su FC24 non si può creare un giocatore più piccolo di così però non fa niente, ha comunque un potenziale incredibile ed è comunque piccolo e comunque ancora giovane Allora non perdiamo tempo e iniziamo subito a lavorare Camarda è un 54 e quindi lo mettiamo sulla lista dei prestiti Non possiamo puntare fin da subito su di lui Ovviamente Camarda poi avrà la possibilità più avanti di girare il mondo però voglio comunque almeno vincere un campionato e perché no una Champions League con Camarda nel Milan Poi magari cambiamo squadra e cerchiamo di vincere la Champions anche nel Manchester City Nel, non lo so, nel Real Madrid eccetera Per fare questo dobbiamo per forza mandarlo in prestito perché non possiamo giocare con un 54 titolare Come voi sapete su questo gioco è veramente molto difficile non essere esonerati E visto che dobbiamo restare per almeno 4-5 anni nel Milan dobbiamo fare le cose fatte bene ecco come si deve Lo mettiamo quindi sulla lista dei prestiti, avanziamo subito nel calendario e vediamo un po' quale squadra è interessata a Camarda Mi piacerebbe mandarlo magari in Serie B Però essendo un 54 potrebbe essere forse anche debole per la Serie B Non si sa, vediamo che viene fuori Tra l'altro, guardate la chat Grazie mister, credo che andare a giocare in prestito mi farà bene Bravo Camarda, bravissimo, siamo d'accordo, siamo d'accordo con te È esattamente quello che abbiamo detto noi 20 secondi fa Tra l'altro è già arrivata un'offerta per lui, un'offerta per Krunic di 20 milioni Lo vendiamo, lo vendiamo Volevo un attimo chiudere la parentesi dedicata a Camarda per poi appunto fiondarci È arrivata un'offerta, è arrivata un'offerta per Camarda Vediamo, allora queste squadre, eh sì signori, queste squadre ovviamente non sono squadre di Serie B Sono squadre ancora più deboli delle squadre di B Ma va bene così, a noi non importa la destinazione di Camarda L'importante è che lui trovi spazio Non ha senso mandarlo in Serie B e poi magari quella squadra ha un attaccante titolare di 60 Camarda non gioca mai e quindi buttiamo un anno L'importante è che gioca Deleghiamo quindi subito questa offerta e proviamo con un prestito biennale Entrambe le offerte delegate con prestito biennale Vediamo poi lui dove preferisce andare Poi Chier al Milan lo possiamo... al Napoli lo possiamo piazzare per 8 e 5 Teo Hernandez ovviamente non si tocca Una volta che Camarda avrà trovato l'accordo con la sua nuova squadra Ci possiamo concentrare sul Milan Accordo per il prestito Accettato signori, vuole andare qui Nel Sandford Football Adesso la cerco È una squadra che gioca nel campionato norvegese Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda un grande bomber questa nazionale? Chi lo sa? Chi lo sa? Abbiamo capito A chi si ispira Camarda Accettiamo comunque questa offerta di due anni E adesso ancora non è ufficiale È Camarda che deve accettare adesso Ma in teoria dovrebbe dire di sì Romero lo possiamo tenere come panchinaro Quindi lo blocchiamo nel frattempo Continuiamo ad avanzare nel calendario Vediamo un po' se arriva una mail Offerta per Giroud Questa mi interessa È Camarda in prestito Camarda in prestito Molto bene Bravo 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 Non vedo l'ora di vedere Anno dopo anno La sua progressione Adesso però Concentriamoci sul Milan Giroud lo mandiamo alla Juventus Per 14 milioni Va bene così Ciao lo possiamo piazzare al Napoli Per 27 milioni e 5 Secondo me lo possiamo vendere Perché possiamo acquistare un giocatore Con un potenziale più grande Calcolate che Come ho detto prima Dobbiamo stare al Milan per tanti anni Quindi possiamo fare un calciomercato Incentrato sui giovani Per poi vincere tutto Quando Camarda sarà titolare Questa secondo me è un'ottima strategia Lo piazziamo per 27 milioni e 5 Non trattiamo eh ragazzi Non vi preoccupate Sì potevo trattare Per chiedere 3-4 milioni in più Però calcolate che dobbiamo fare 10 anni Quindi cerchiamo comunque Di sorvolare questi dettagli No Giroud Non hanno attorato l'accordo con la Juve Dai porca miseria Giroud non lo voglio Perché in game non rende In simulata non rende E tra l'altro cala tantissimo Cioè a fine anno Giroud è un 77 Quindi voglio prendere un attaccante più forte Ocafor lo piazziamo per 24 milioni Al Monza Mamma mia Che colpo Che colpo di Galliani Tanta roba Ocafor venduto Va bene Benasser si tiene Benasser si tiene Una grandissima offerta dal Chelsea 73 milioni Ma si tiene Perché sarà titolare Nel nostro centrocampo Tra l'altro non abbiamo anche fatto vedere La formazione Però ovviamente Il Milan Lo conosciamo benissimo Quindi non c'è bisogno di fare Un attimo il resoconto Della situazione Sapete meglio di me I punti deboli Dei rossoneri Continuiamo comunque ad avanzare Vediamo se arrivano altre offerte Io ho messo un po' di gente sul mercato Però purtroppo non arriva nessuna offerta interessante Il budget di 191 milioni Beh 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 È comunque una grande Una grande cifra Allora io direi di iniziare subito a muoverci Partendo dall'attaccante Voglio prendere Cristiano Ronaldo Ovviamente Non date troppo peso Ai giocatori che compriamo Prenderemo sempre gli stessi Sì lo so ma non mi importa Questo non è il focus del video Il focus del video è far crescere Camarda E vincere tutto con lui Perché voglio prendere Ronaldo Perché Ronaldo è un giocatore che ha 38 anni Rende benissimo per la prima stagione Forse anche la seconda E quindi poi quando si ritirerà Lascerà poi spazio a Camarda Che è ritornato al prestito Questo è il piano Non ha senso per me prendere un giocatore giovane Preferisco andare su Ronaldo Che tra l'altro costa pochissimo E quindi poi ci dà la possibilità Di migliorare anche altre posizioni Provo con 24 milioni Ha un valore di 23 Vediamo un po' che cosa Eh 33 33,5 Porca di quella misera Mi sembra un po' esagerata Come cifra Provo con 27 La Clasua neanche gliela metto 30 milioni Cavolo Pensavo di pagarlo di meno Provo con 28 Più Clasua del 15 Vediamo se accettano 29,8 Con la tensione massima Accetto Va benissimo Lo prendo Il secondo giocatore invece Che voglio prendere È un certo Konate Difensore centrale del Liverpool Non sappiamo niente su di lui Questo vuol dire che Ha un overall sotto l'83 Ma va benissimo Va benissimo così Ha un potenziale straordinario E questo è quello che conta Metto Mirante come contropartita Per sapere il prezzo Vogliono 59 milioni Più Clasua Allora magari posso mettere Come contropartita Calulu Che ne vale 25 Così magari possiamo calare E possiamo fare 25 Più 25 Più Clasua Del 10 Che confermo Vediamo un po' che cosa ci dicono Vedi 7,4 Va bene così A fare fatto Ora mi serve un centrocampista centrale E voglio andare su Gabri Bega Che tra l'altro nella vita reale Ho letto che si è già scocciato Di stare qui Cercavo di tornare in tutti i modi Nel calcio Che conta Chissà se ci riuscirà Mettiamo Mirante come contropartita Per sapere il prezzo Vogliono 37 milioni Allora Sapete che vi dico Posso mettere come contropartita E cavolo Possiamo mettere Boh Mettiamo lui che vale 20 milioni E vicino ne metto 18 16 16 che è il mio numero fortunato Vediamo un po' se accettano Più Clasuo del 20 Vediamo Affare fatto Bene 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 Voglio fare una squadra Pronta Già pronta Per Non dico per vincere tutto Adesso Ma una squadra Che poi ci permette Quasi di non fare calciomercato Nelle prossime stagioni Perché tutti questi giocatori Che stiamo prendendo Sono giocatori Con un potenziale straordinario Che quindi cresceranno Di stagione in stagione Mi sa che questo è l'ultimo colpo Che facciamo Perché voglio andare su Paolo Gavi Che addirittura gioca nel PSG Appena cambiato squadra Però proviamo a strapparlo Abbiamo ancora 112 milioni Posso mettere Mirante Come contropartita Per sapere il prezzo Allora vogliono 112 Tutto il budget praticamente All in Non mi piace questa controfferta Provo a mettere una contropartita E magari Eh magari calo E calo si Provo con 70 milioni Più contropartita Più clasro del 25% Vediamo un po' Se riusciamo a prenderlo 88 e 8 Beh ok Già va meglio Provo con 78 Più contropartita 86 La tensione è quasi al massimo 80 milioni Ultima offerta 85 e 3 Tensione rossa Devo accettare per forza E quindi accetto La squadra è pronta Ho fatto tutti quanti gli obiettivi E quindi direi che siamo pronti Per la prima smulata Con Gavi di Vega Che è un 78 Ronaldo che è un 86 E in difesa Avemo con Ate 82 Con Gavi ovviamente 83 Devo dire che è una formazione Veramente 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 Interessante Tra l'altro Sono andati avanti Un po' nel calendario E Camarda Ha fatto già Più uno Da 54 a 55 Bravo Più uno In un mese La media È quella buona Speriamo di vederlo A fine anno Almeno Almeno 61 62 Dai cavolo Ha un grande potenziale Se gioca Dovrebbe Dovrebbe farcela Noi comunque Abbiamo fatto ogni cosa Abbiamo vinto anche l'arma Partita 2 a 0 Con il Bologna Non ci resta che simulare E ci vediamo direttamente Alla fine della stagione Quarti di finale Di Champions League Contro il Manchester City 0 a 0 La partita di andata Adesso c'è il ritorno In trasferta 1 a 0 Siamo in semifinale Di Champions League Dove becchiamo Il Napoli Vabbè di sicuro Andiamo fuori col Napoli 2 a 1 Ovviamente abbiamo battuto il City Ma andiamo fuori col Napoli E certo 6 a 3 6 a 3 6 a 3 Va bene Va benissimo 6 a 3 Che sono vendicati Per la partita della vita reale Va bene Comunque Siamo arrivati alla fine della stagione Semifinale di Champions League Persa contro il Napoli Altrato abbiamo fatto fuori il City E anche Real Madrid Ai ottavi Però il Napoli Il Napoli non si riesce a battere Vado avanti Fino all'8 Perché c'è il Napoli In finale di Champions E quindi ora sono curioso No? Così possiamo vedere anche che cosa ha fatto Concentriamoci però prima sul campionato Perché signori L'abbiamo vinto 89 punti Mamma mia Con 85 gol fatti 37 gol subiti In Coppa Italia invece Mi sa che stiamo stati eliminati Dall'Atalanta Facciamo un breve recap Intanto La Coppa Italia Ha vinta dal Napoli 2 a 1 Va bene Noi siamo stati eliminati Ai quarti dall'Atalanta Invece in Champions League Alla fine il Napoli ha vinto Ha perso in finale Contro l'Arsenal Mamma mia Che finale però Arsenal-Napoli Bella 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 Allora Andiamo però subito su Camarda Perché è un 61 Bravo Camarda Bravo Hai fatto più 7 Bravissimo Allora secondo me Deve restare ancora Un'altra stagione qui Perché per me Ronaldo Ha fatto bene Vediamo 20 gol Davide dai 20 gol 20 gol pensavo meglio Pensavo meglio 24 leao 20 gol Ronaldo Ciucuese 15 gol 10 gol per Gabri Veiga Che ha fatto anche più 4 Bravo 7 gol per Ben Asser Con 11 assist 6 gol per Teo Hernandez Che ha fatto più 4 Gabi più 3 6 gol e 11 assist Va bene Allora io sono soddisfatto Al 100% Di quello che abbiamo fatto Abbiamo vinto il campionato Semifinale di Champions League La squadra sta crescendo bene E Camarda sta crescendo bene anche lui Quindi Sono contento Non ci resta a questo punto Che avanzare Ci vediamo direttamente All'inizio della seconda stagione E per Camarda Ci sarà un altro anno di prestito Poi vediamo se lanciarlo subito titolare Deve almeno arrivare a 70 Per essere titolare nel Milan Vediamo se ce la farà Nella prossima stagione Budget per la seconda stagione 206 milioni Mi sa che hanno pagato La clausola di Calabria Perché prima non l'avete visto Ma tipo io ho messo Una clausola di 70 milioni Ho detto vabbè dai È impossibile che qualcuno Paga una clausola È così E invece l'hanno pagata Perché evidentemente Con il baghettino del cambio ruolo Era cresciuto tanto Va bene così Va bene così Anche perché un terzino Comunque l'avremmo preso E allora prendiamolo Andiamo su Balde È uno dei terzini Più forti del gioco Eccolo qui Gioca nel Barcellona Una clausola di 119 milioni Che noi ovviamente non paghiamo Provo a mettere il portiere Come contropartita Basket Che vale 2,7 Vogliono 89 milioni È tanto eh Io ce li ho i soldi Per fare anche un altro Super grande colpo Però voglio comunque Cercare di risparmiare Il più possibile 88 Eh accetto Dai va bene così Dai va bene così Preso ragazzi Preso Balde Terzino sinistro Che ovviamente In due settimane Diventa un terzino destro Per quanto riguarda invece Il secondo acquisto Voglio andare su Filippo Foden Che è una S Che vale tantissimo Non abbiamo i soldi Per prenderlo Però possiamo mettere Come contropartita Ciucuese Che vale 80 milioni E vicino Ne posso mettere Altri 40 Perché ne dovrebbe valere Circa 120 Quindi mettiamo 40 milioni A fare fatto Bene ragazzi Bene 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 Sono veramente contento Di come ci stiamo muovendo Manca solo la cinegina Sulla torta Ovvero Camarda L'anno prossimo Titolare Al posto di Ronaldo Tra l'altro Sono passati due mesi E Camarda È un 63 Dai ce la fai Ce la fai Ce la fai a diventare 70 Diventa un 70 E ti metto titolare Ti faccio questa promessa Cavolo Avanziamo signori Ci vediamo Alla fine Della seconda stagione Battuto il Manchester City 4-0 Ai quarti Di Champions League E adesso Becchiamo l'Inter Tutto come prima Questa volta però C'è l'Inter E non c'è il Napoli 2-2 La partita di andata Finisce 5-4 Per l'Inter Non riusciamo a superare La semifinale È incredibile C'è davvero È incredibile Anche perché La squadra più forte La battiamo Nel turno di prima Vabbè siamo riusciti Per avvincere la Coppa Italia 2-0 Contro la Juventus Molto bene Per quanto riguarda Invece il campionato Siamo arrivati Gramorosamente Secondi Con 83 punti Mamma mia La barretta è arancione E mi viene da dire Che siamo stati fortunati Perché abbiamo fallito Tutti gli obiettivi Tranne quello della Coppa Italia Che è quello Diciamo Meno importante La squadra è questa Con Ronaldo Che non è calato È rimasto 84 Bravo Andiamo però a vedere Camarda Perché è un 69 Dai 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 Cavolo Ho detto che a 70 Sarebbe stato lo titolare E gli manca solo un punto Ma lo fa ragazzi Il più uno Lo fa Diciamo In estate Ora bisogna capire Se merita Una possibilità Fin da subito Oppure se fare Un terzo anno Di prestito Perché giocare con un 70 Titolare Con gli obiettivi Vinci il campionato Vinci la Champions League Vinci la Coppa Italia È un rischio È un rischio Quanti gol ha fatto Ronaldo 41 Ragazzi 41 41 gol A 40 anni Mamma mia Mamma mia È come si fa Cioè vedete Se in questo momento Togliamo Ronaldo Che fa 41 gol E mettiamo Camarda Che magari è piccolino E ne fa solo 10-15 Perdiamo tanti punti E rischiamo anche di Essere esonerati Foden 23-13 Leao 14-5 Gavi 7-7 Gabri Vega 7-4 Jovic 7-0 Anche Jovic ha giocato Un pochettino Allora avanziamo Nel calendario Iniziamo insieme La terza stagione Voglio mettere Camarda Sulla lista dei prestiti Per vedere Se può andare a giocare In una squadra Di media fascia Adesso ha fatto L'esperienza Lì nel campionato Norvegese Ora ci vorrebbe Una squadra Di serie B Magari dopo un anno Di serie B Potrebbe essere pronto Per fare il titolare Nel Milan Non lo so ragazzi Non lo so Cerchiamo di stare attenti Perché se veniamo Esonerati Ovviamente Tutto il video Viene buttato Si butta Avanziamo solo Di un giorno Nel calendario Così torna Camarda E andiamo a vedere Subito la sua Valutazione Perché è un 69 E ha il potenziale Per diventare speciale Attenzione Allora Gli riluvo subito Il contrattino 3-2 anni Con un ruolo promessa Va benissimo E lo metto Sulla lista dei prestiti Vediamo se Siamo fortunati E come ho detto prima Qualche squadra Di serie B È interessata a lui Offerta per Gabri Vega Sì ragazzi Non so per quale motivo Ma Gabri Vega Vuole andare via Cioè è veramente Clamoroso eh Blocchiamo comunque Baldi un 89 Posso bloccare Gabri Vega Adesso posso bloccarlo Allora è la seconda volta Che faccio questo Lo blocco Però poi Durante l'anno Vuole andare via Camarda Uh Camarda al Besittas Camarda al Getafe Mi piacerebbe però Vederlo in serie A Sapete Allora io rifiuto le offerte Aspettiamo eh Cioè volevo dire in Italia Non serie A Italia quindi serie A Serie B Vediamo se arriva qualcosa Eccolo Lo Spezia Lo Spezia raga Eh non è male Spezia e Galatasaray Però non gioca Se va al Galatasaray Invece lo Spezia Potrebbe giocare Deleghiamo subito E vediamo se lui è interessato Due anni di prestito Allo Spezia Poi ovviamente Lo richiamiamo Tra un anno Se cresce tantissimo Vediamo se ha trovato L'accordo Accordo per il prestito Ragazzi Accordo per il prestito Tra l'altro c'è un'offerta Anche di 4 milioni Ma ovviamente non ci interessa Accettiamo subito Quindi l'offerta Dello Spezia La contro offerta Dello Spezia E vediamo se Camarda Accetta diciamo Lo Spezia Come destinazione Camarda in prestito Bene ragazzi Bene 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 E' arrivata un'offerta Anche per Conatè Conatè lo possiamo bloccare Poi al massimo Lo mettiamo come contropartita Per prendere un difensore Centrale più forte Allora Chiusa la parentesi Camarda Adesso cerchiamo di capire Come muoverci Perché Cristiano Ronaldo È un 84 Non calla più Perché ha superato i 40 anni E di conseguenza Si può tenere ancora Visto che rende tantissimo Anche se è un 84 Si vuole ritirare Al termine della stagione Quindi non possiamo vendere Non possiamo metterlo Come contropartita E se prendiamo un altro attaccante Ci fa esonerare Perché lui ha ruolo cruciale Non possiamo neanche svincolarlo Quindi Ci tocca restare con Ronaldo Tra l'altro Abbiamo un budget Di 252 milioni Quindi ci possiamo divertire Gabri Vega Boh quanto ha 85 Gabri Vega Ha un grandissimo potenziale Però secondo me Possiamo prendere un centrocampista centrale più forte Anche perché sono tutti sopra il 90 Ronaldo non lo posso toccare Poi c'è Konate che è un 86 Quindi volendo Si potrebbe prendere un difensore centrale Anche sì Più forte di Konate E allora andiamo sul migliore ragazzi Sul Guardiolino Eccolo qui 23 anni 85 Cavolo Va bene 85 Perché ovviamente Non ha potuto Usufruire Dei piani di crescita Perché non era con noi Metto come contropartita Konate Che vale di più Quasi Vediamo un po' Se accettano questo scambio 3 milioni così giusto per far vedere Tra pelatoni Ci si intende A fare fatto La carriera è veramente semplice Se uno fa tutto quello che può fare Infatti come potete vedere Abbiamo 250 milioni E quasi quasi Non sappiamo neanche come spenderli Ma come ho detto A inizio video Il focus non è sul Milan Non è sul mercato Ma è sul Camarda Sapete qual è un errore Che faccio spesso Cioè spesso no Quando faccio queste serie E che poi Quando Camarda Cambierà squadra Non riusciremo praticamente A battere il Milan Perché saranno così forti no Che sono praticamente imbattibili Dobbiamo tipo giocare sporco E svincolare tutti i giocatori Cioè a questo punto Non lo so Perché immaginate se Tra 4 anni Camarda va al Manchester City Andiamo anche noi Con Al City con Camarda Come battiamo il Milan Come vinciamo la Champions League Cioè sono È imbattibile questa squadra Comunque Guardiolino al centro Della difesa E poi c'è Gabri Vega Che è un 85 Volendo ragazzi Posso prendere un centrocampista Più forte Dai prendiamo Posso andare su Pedri Possiamo fare Gavi Pedri 22 anni È un 90 È un 90 Costa anche tantissimo Così almeno finiamo tutto il budget E non abbiamo i rimpianti Metto come contropartita Anche se Gabri Vega Madonna mia Quanto vanno Ok questo qui è Gavi Vale 77 zeppole Potrebbe anche restare come panchinaro Eh però è veramente difficile Potrebbe farci esonerare Però proviamoci Dai proviamoci A tenerlo come panchinaro Al massimo lo svincoliamo Sì perdiamo dei soldi Però ragazzi Chi se ne frega 160 milioni Affare fatto signori Il Barça dice Subito sì Davanti ai milioni Tutti gli obiettivi Sono stati completati E quindi siamo ufficialmente Pronti per la terza stagione Forse l'ultima Senza Camarda E di sicuro L'ultima Di Cristiano Ronaldo Perché alla fine della stagione Si ritirerà Ci vediamo direttamente Alla fine Per tirare le somme Guardi di Champions League Contro il Napoli 3 a 1 signori 3 a 1 l'andata Il ritorno 8 a 2 8 a 2 Ragazzi Ovviamente il totale Delle due partite Però è comunque Un risultato incredibile Ora becchiamo il Manchester City In semifinale 2 a 2 La partita di andata Vediamo se riusciamo a rompere La maledizione Delle semifinali 6 a 5 6 a 5 Finale di Champions Finale di Champions Signori Finale di Champions Ma mi è venuta in mente Una cosa Ma se richiamassimo Camarda Per la finale di Champions No non vale Dai non vale Non sarebbe corretto La voglio vincere Diciamo Cioè nel senso Questa Questa Champions Non sarebbe poi di Camarda Ok Potremmo farlo eh Ma non sarebbe di Camarda Tra l'altro È l'ultima partita Della carriera Di Cristiano Ronaldo Noi abbiamo una squadra Straordinaria Tutti sopra il 90 Tranne Guardiolino 88 Ma a breve Ci arriverà anche lui al 90 Abbiamo la finale di Champions Quindi contro il PSG Prima però Recapino Perché il nostro Camarda Vediamo un po' Dove sta È un 75 Mamma mia ragazzi 75 Ha giocato 10 partite Ha fatto 7 gol Perché ha giocato così poco? Perché ha fatto solo 7? Cioè perché ha fatto solo 10 presenze? Cioè tra l'altro Una media gol incredibile Ha giocato in Serie A Comunque Lo Spezia è in Serie A Però ha fatto Ha fatto pochissime partite Però è cresciuto di 6 Allora questo qui Se fa 60 partite Cresce di 20 Senza neanche i piani di crescita No comunque l'anno prossimo Camarda titolare Assolutamente Adesso andiamo subito a giocare La partita di Champions League Contro il PSG Questa qui è la formazione 4-2-4 Con Echitique Mbappé Dembélé Pitigna Bernardo Silva Donnarumma Mamma mia che partita incredibile per lui Contro il Milan Simulazione veloce Vediamo un po' come finisce la gara Finisce 2-1 Con Ronaldo Che sbaglia il rigolo al 66esimo Ma poi segna 2 gol Rosso anche per Guardiolino Cioè praticamente abbiamo giocato la finale Con l'uomo in meno E l'abbiamo vinta Con doppietta di Cristiano Ronaldo Mamma mia E glielo diamo il pallone d'oro a Ronaldo Porca di quella vacca Peccato che si ritira adesso Quindi non può vincere Vabbè non l'avrebbe vinto comunque eh Perché su questo gioco Coda tantissimo la valutazione E lui è un 84 Però ha fatto una stagione incredibile secondo me In campionato siamo arrivati i primi con 94 punti Mamma mia Che stagione Cavolo che stagione E in Coppa Italia dove siamo arrivati? Abbiamo perso in finale Che peccato Abbiamo perso in finale con la Juventus 2-1 Ad un passo quindi dal triplete Andiamo a vedere rapidamente le statistiche Perché il capo canoniere è Cristiano Ronaldo Ancora Ma se vuoi sicuro che ti vuoi ritirare Ronny Non è che ha cambiato idea No Purtroppo Purtroppo non ha cambiato idea Leao Ben i 7-15 Si porterà a casa il pallone d'oro Gabri Veiga 18-15 Bravissimo Gavi 10-4 Tra l'altro neanche Gabri Veiga è sopra il 90 Prima ho detto solo Guardiolini Invece anche lui non è arrivato a 90 Foden Sì però nuovamente titolare Abbiamo Pedri e Gavi Che sono 90 Quindi Gabri Veiga sarebbe la riserva Non so come hanno fatto a giocare 47 partite 1 43 quest'altro 51 quest'altro Stiamo giocando in 12 probabilmente Comunque Signori La terza stagione è terminata Con la vittoria della Champions League Ma adesso Inizia Ufficialmente Il percorso Di Camarda Con la maglietta Del Milan Questi tre anni di prestito Erano necessari Hanno funzionato Ci siamo mossi bene Perché Siamo riusciti comunque A mantenere la panchina Creando una squadra straordinaria Camarda È comunque cresciuto Diventando un 75 In tre stagioni E quindi Direi che ci siamo Adesso Inizia Ufficialmente Il vero progetto Camarda Budget per la quarta stagione 286 milioni Da investire E qui signori Bisogna Bisogna sacrificare Praticamente Tutti gli attaccanti Perché c'è Colombo C'è ancora dei Kettler Che ho provato a vendere Non so quante volte Ma non trovo mai l'accordo Quindi alla fine è rimasto Non si lamenta Ed è rimasto Ma Siamo costretti Praticamente A svincolare tutti Altrimenti il nostro Camarda Non gioca Tra l'altro Camarda È ancora in prestito Allo Spezia E quindi Ci tocca richiamarlo Ma sì signori Cioè non voglio aspettare Perché sta crescendo Tantissimo giocando poco Quindi lo voglio provare Lo voglio provare Eccolo qui Lo richiamo dal prestito Quindi paghiamo 364 mila euro Ed è pronto quindi Per essere titolare A ruolo sporadico Vediamo se riesco Anzi Non se riesco Devo svincolare tutti L'Asetich Forse no Perché Ha lo stesso overollo Quindi in teoria Dovrebbe giocare Comunque Camarda Se mettiamo lui in campo Colombo Purtroppo Devo andare via Lo svincoliamo Sì potremmo anche Venderlo Ma abbiamo 300 milioni Non sapevo neanche Come utilizzarli Quindi i soldi Non sono un problema Jodic lo svincoliamo E in questo momento Abbiamo due attaccanti Se io vado su Camarda E rinnovo Mi da ruolo importante Mi da ruolo importante Però voglio trattare Perché Non mi ha chiesto Nessun prolungamento E questa cosa Non mi piace Perché Camarda Non so quanti anni Ha ancora di contratto Ma è meglio Brindarlo Non si sa mai A due anni A due anni Quindi facciamo Una controfferta Di un controprolungamento Anzi di un anno Quindi arriva praticamente A tre anni Undici mesi Quattro anni di contratto Va benissimo così Per quanto riguarda Invece lo stipendo Gli do subito 200 mila Solo so È tantissimo Però così Non si lamenta Nel corso della stagione E non chiede la cessione Perché guadagna tantissimo È meglio svincolare Anche De Ketelar Perché può fare Anche la TT Quindi è meglio Svincolarlo E così siamo tranquilli Ecco Per il resto Io non so come muovermi Sinceramente A livello di mercato Perché abbiamo già I giocatori migliori Potremmo magari andare Ad indebolire Le altre squadre Ecco Potremmo rubare Bremer E Federico Chiesa Alla Juventus Che è l'unica squadra Che purtroppo Ci ha battuti Perché abbiamo perso La Coppa Italia Mettiamo 100 milioni per Bremer Madò Ma siete pazzi 80 milioni Ho capito che è cresciuto Però mi sembra tanto 85 milioni A fare fatto Bremer Viene per fare La riserva Tra l'altro Era un 87 E il nostro Gabriel Vega Che è un 88 Ha accettato Il ruolo turnover Addirittura E lo accetta anche Bremer Quindi in teoria Non dovremmo essere Esonerati Perché appunto Ha ruolo turnover Poi per davvero Quando cambieremo squadra Perché non voglio Restare sempre al Milan Una volta vinta La Champions League Nel Milan Con Camarda titolare Mi piacerebbe appunto Vincerla anche In altri campionati E in altri paesi Volevo dire E Dobbiamo per forza Svincolare Tutti quanti i giocatori Del Milan Perché poi diventa Imbattibile Sale i makers Come contropartita Ma no Non ve lo do Ragazzi Non ve lo do Perché devo darvelo Non voglio rinforzarvi Sì non è un fenomeno Però comunque Non voglio darvi nessuno Preso quindi anche Preso quindi anche Federico Chiesa Faccio gli obiettivi E poi vi faccio vedere Un po' come siamo messi A livello di formazione Addirittura sporadico Chiesa Raga Sporadico Sporadico Grande Grande Federico Tutti gli obiettivi Sono stati completati Lì davanti ovviamente Non gioca L'Azetic Ma gioca Camarda Che ha già fatto più uno Quindi ha superato L'Azetic Ok Così non abbiamo nessun dubbio Dovrebbe giocare lui Ma abbiamo la finale Di Supercoppa Contro il Benfica Se non erro Vediamo se ho visto bene Contro il Benfica Ed è la prima partita Ufficiale Di Camarda E quindi la voglio vedere Insieme a voi Purtroppo guardi Non si è fatto buttare fuori Quindi giocherà Bremer Per il resto invece La squadra è confermata Ma la fascia di capitano Se la diamo a Camarda Così magari siamo sicuri Siamo ancora più sicuri Che giochi Ecco Fascia di capitano a Camarda Nella sua prima partita Del titolare Con la maese del Milan A questo punto quindi Non ci resta che andare Direttamente al risultato Vediamo se riesce a segnare Subito alla prima Camarda 2-0 Foden E Leao Niente Niente Camarda Che è stato sostituito Al sessantesimo Per lasciare spazio Ovviamente All'Azetic Ci sta ragazzi Ci sta Cioè non posso svincolare Anche l'Azetic Cioè dobbiamo avere Comunque un altro attaccante Se no si ha rovinato Si fa male Camarda Cioè bene Sono erati al 100% Senza attaccanti Come facciamo Comunque l'importante È che gioca Che trova spazio E che cresce Ho preparato anche Tutti quanti Tutti quanti i preparatori Tra l'altro siamo messi Benissimo a livello offensivo Quindi Camarda Dovebbe crescere La velocità della luce Ho fatto anche Tutti quanti gli obiettivi E quindi non ci resta Che simulare E ci vediamo direttamente Alla fine della stagione Per vedere Camarda Come se la cava No aspettate No che cos'è Che cos'è sta roba ragazzi Che cos'è sta roba Che cos'è sta roba Sono fermato Perché come sempre Devo controllare tutti quanti i contratti Eccetera 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 Di mese in mese Cos'è sta roba Il Bologna In Champions League Il Bologna I quarti di Champions Cos'è sta roba Che cavolo è sta roba Voglio perdere con il Bologna Io faccio il tifo per il Bologna Forca di quella miseria 4-0 all'andata Madò Totale 6-2 Disintegrato il Bologna Siamo in semifinale di Champions Contro il Barcellona Alla prima di Camarda Finisce 2-1 La partita di andata Il ritorno Finisce 4-1 4-1 è finita Quindi siamo in finale di Champions League Per la seconda volta Consecutiva E siamo contro Il Bayer Leverkusen 5 giugno 2027 Ma io adesso voglio vedere Camarda Quanto è cresciuto? 79 79 per Camarda Mi aspettavo di più Porca di quella misera Mi aspettavo di più Ha giocato mi auguro Statistiche 30 gol per Foden 26 per Leao 20 per Chiesa 7 No 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 Dove sta? Non ha giocato Non ha giocato Perché ha giocato solo 13 partite? Come è possibile? Allora aspetta L'Azedic ha giocato Chiesa Ma come ha fatto? No Chiesa può fare la punta Non lo sapevo Ma no Ma non è vero Ma dai Ma non pensavo che Chiesa Potesse fare la punta Dai ma cos'è Stosca? Ma non è vero ragazzi Sì ok va bene Chiesa ha giocato lì Ma con la ciugina Faceva il terzino Dai Non pensavo che Chiesa Potesse fare anche la prima punta Ok magari la T La T lo può fare Ma la prima punta Chiesa non è una punta Dai Dai porca misera Non lo sapevo Altrimenti non lo prendevo neanche Mannaggia la vacca Mannaggia Vabbè comunque c'è Camarda Titolare adesso Con a questo punto Chiesa che gioca a destra Perché c'è solo lui Quindi si gioca di qua Al posto di Foden Che è squalificato Quindi va in panchina Per il resto la squadra È confermata Signori Finale di Champions League Per Camarda Peccato però Perché non è stato L'artefice del percorso Cioè ha fatto sì Comunque bene Ma è come se Anzi non è come Ha fatto la riserva Non ha fatto il titolare Dai porca miseria Andiamo comunque A simulare questa partita Contro il Bayern Leverkusen Vediamo un po' Come finisce la finale Di Champions Di Camarda Finisce 4 a 2 Con gol di Chiesa 4 a 2 per il Bayern Purtroppo Gol di Chiesa E gol di Chiesa Doppietta Di Federico Chiesa Stiamo facendo La carriera di Chiesa Però posso essere sincero Sono contento Perché non l'ha Cioè non l'ha vinta Camarda Invece lui deve essere Proprio Il perno Il perno Della nostra squadra Chiesa comunque Finale Cioè doppietta pure in finale Mamma mia Tanta roba raga Tanta roba Federico Chiesa Che a questo punto Verrà prima Verrà premiato Con lo svincolo Eh mi dispiace Federico C'hai di giocatore Che ti devo dire Mi dispiace Non pensavo potessi giocare Anche lì davanti Per quanto riguarda Invece il campionato Abbiamo Terzi Madò Terzi Cioè l'anno scorso Abbiamo fatto 90 punti E passa Quindi è stato tutto merito Di Cristiano Ronaldo Praticamente Mi viene da dire Madò Terzi con 77 punti Che schifo Tra l'altro Abbiamo perso anche La finale di Coppa Italia Se ho visto bene Sì 1 a 0 Che brutta annata Cavolo Però non abbiamo ancora visto Il vero Camarda Non l'abbiamo ancora visto La prossima stagione quindi dovrebbe essere la sua Beh vera prima stagione con il Milan Però da un certo Cioè in un certo senso no È giusto così Perché ha fatto un percorso Due anni di prestito In una squadra di scappati di casa Poi Allo Spezia Poi Pantinaro al Milan Adesso Titolare del Milan Cioè stiamo proprio facendo Lo step Di un giocatore vero Budget di 313 milioni Che io non posso Utilizzare Questa volta Non prendo nessuno Perché non lo so Magari prendo Bandai Che ha come secondo ruolo L'ATT E mi gioca Al posto di Camarda Non compro Nessuno Nessuno Mi tengo i soldi Faccio solo i rinnovi Tra l'altro Leao96 Mi ha chiesto 630 mila di stipendio Ragazzi 630 Li accontentiamo tutti eh Così nessuno si lamenta E tutti vogliono restare qui nel Milan Poi sarà una bella sfida A batterli Quando Cambieremo squadra con Camarda Ma ovviamente Se cambieremo squadra con lui Andremo in una formazione ricca In una sformazione potente In questo momento Se lo mettiamo sul mercato Tanto Salemakers Ha chiesto di essere ceduto Quindi lo cediamo Arrivederci Tra l'altro c'era ancora Rolo importante Anche Romero Rolo importante Ma perché è un ruolo importante Romero Ma scusatemi Ma non fatevi più vedere Vai cacciati Cacciati a calci Stavo dicendo Camarda Se lo mettiamo adesso sul mercato E non se lo prende Il Real Madrid Il Paris San Gennaro Eccetera Quindi bisogna comunque Aspettare un pochettino Quindi da un lato Dai sono contento Che non l'abbiamo vinta subito La Champions Ho controllato tutti i giocatori Intanto Camarda è un 80 Ho controllato tutti i giocatori E non c'è nessuno Che ha come ruolo secondario Quello dell'ATT Questa volta quindi Camarda dovrebbe giocare titolare Tra l'altro Avete visto che ha una media goal Incredibile Perché ha giocato poco Ma ha segnato tanto Quindi Attenzione Perché se questo Camarda Fa 60 partite Potrebbe anche fare 40 goal Chi lo sa Ho fatto ogni cosa Non ci resta che simulare E vediamo quello Che viene fuori Quarte di Champions Contro il Manchester United Attenzione 2 a 2 La partita di andata Vinciamo con il Monza nel mezzo E poi vinciamo 3 a 2 Quindi siamo in semifinale Di Champions League Ormai la Champions è casa nostra Vecchiamo il Bayern Monaco Prima partita in trasferta Finisce 2 a 1 per noi La partita in casa 4 a 3 Il totale Quindi siamo di nuovo In finale Di Champions Questa volta Secondo me ha giocato Magnan titolare In attacco Finale di Champions Che sarà contro il Lipsia Andiamo subito a vedere la squadra Perché Camarda è un 84 Ha fatto più 4 Ha fatto più 4 Leao è quasi a 99 È un 97 Mamma mia Allora Ab rosa Prima voglio vedere le statistiche Capo cannoniere Foden con 28 Leao con 26 Gabi con 19 Pedri con 12 Camarda con 12 Camarda devi fare di più Eh no Stavolta è giocato Stavolta è giocato Camarda Stavolta è giocato Non puoi fare solo 12 gol È vero che sei un 84 No? Che tra l'altro sei fortissimo E magari Foden è un 95 Leao un 97 Eccetera 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 Però tu sei la punta Sei la punta Di diamanti di questa squadra Che ha fatto però Solo 8 gol in Serie A E solo Tra virgolette 3 gol in Champions League In 9 partite Questo non va bene Camarda Noi ti vogliamo bene Però devi fare di più A livello realizzativo Se vuoi davvero ambire A vincere il pallone d'oro Altrimenti sei un comprimario In questa formazione Fatto sta che Siamo in finale di Champions Andiamo subito quindi A giocare la nostra Terza finale Una l'abbiamo vinta Senza Camarda Un'altra l'abbiamo persa Con Camarda Adesso giochiamo La terza finale Con Camarda Titolare Vinciamo Nooo Perdiamo 3 a 2 Perdiamo 3 a 2 Tempi supplementari Ha segnato Gabri Veiga E ha segnato Chi? Gavi Ha segnato Gavi Con Camarda Che ha giocato tutta la partita Non è stato sostituito Però Vediamo quanto ha preso A livello di voto Ha preso 5 e mezzo Mamma mia ragazzi Solo 5 e mezzo Anche Leao però Ha preso 5.6 Quindi non ci accaniamo Contro Camarda Però niente Non riusciamo a vincere La Champions League Con Camarda Solo con Cristiano Ronaldo Si può vincere la Champions A quanto pare Primo posto però In campionato Con 92 punti Per quanto riguarda Invece la Coppa Italia Non l'ho vista Ha vinto la Roma In finale con il Cagliari Noi siamo stati eliminati Proprio dal Cagliari Ai quarti di finale La Supercoppa L'abbiamo vinta 2 a 1 Si la Supercoppa Neanche la sto guardando Non è l'arma volta Che la vinciamo Comunque Le statistiche Le abbiamo viste La squadra è questa E raga Cioè finchè non vincemo La Champions Non possiamo cambiare squadra E poi altra cosa importante L'ho detto anche prima Camarda adesso È solo un 84 Se cambiamo squadra Dobbiamo andare In una big Real Madrid PSG E se lo mettiamo sul mercato È veramente difficile Riuscire Accederlo A una squadra così forte Avendo solo 84 Quindi ci tocca aspettare Almeno un'altra stagione Tempo sgaduto La prima parte Della challenge Dedicata a Camarda Finisce qui Mi raccomando Lasciate un bel mi piace In questo istante E domani alle 14.30 Avrete subito La seconda parte L'ultima parte Quella decisiva Io vi saluto E vi ringrazio Per aver visto il video Dall'inizio Fin alla fine Ci vediamo stasera Con il Cambridge E domani Con la seconda parte L'ultima parte L'ultima parte L'ultima parte L'ultima parte L'ultima parte